Nelle imminenti puntate italiane della Sopla Promessa, Martina de Luyan si troverà al centro di una crescente complicazione che agiterà la sua vita tranquilla nella tenuta. La marchesa Cruz Esquardo, interpretata dalla magnetica Eva Martin, inizierà a nutrire sospetti sulla prolungata permanenza di Martina, spingendo suo marito Alonso a intraprendere un'indagine approfondita. L'inaspettata richiesta di Cruz metterà Martina nell'occhio del ciclone, generando non poche preoccupazioni nella giovane donna. La trama di La Promessa si arricchirà di nuovi sviluppi imprevisti e ricchi di suspense quando la marchesa Cruz inizierà a mettere in discussione la presenza di Martina nella tenuta. La discussione tra Cruz e Alonso non sarà solo una banale indagine, ma scaturirà da una genuina espressione di piacere da parte della coppia di aristocratici. Saranno attratti dal dinamismo e dalla vitalità che Martina, la loro adorata nipote, ha portato nella loro vita quotidiana nella promessa. L'indagine di Cruz rivelerà ulteriori intricati dettagli della trama, portando alla luce segreti nascosti e relazioni complesse. La tensione crescerà man mano che Martina cercherà di difendersi dalle accuse, mentre Alonso sarà diviso tra la fiducia nella moglie e il desiderio di scoprire la verità. Con la marchesa Cruz che si pone come figura centrale nelle indagini, il destino di Martina nella tenuta sarà sospeso tra il mistero e la rivelazione, promettendo agli spettatori un'emozionante serie di episodi che terranno incollati alla televisione tutti gli appassionati di La Promessa. Tuttavia, dietro la facciata di un idilliaca vita familiare, si celano correnti più profonde e turbolente che stanno per emergere. Questa complessità si svelerà in modo inaspettato durante uno dei consueti scambi tra la marchesa Cruz e Squerdo e suo marito Alonso, rivelando la natura riflessiva di Cruz. Nonostante l'affetto che prova per la nipote Martina, interpretata con una commistione di forza e vulnerabilità da Amparo Pinero, Cruz non potrà ignorare il tempo trascorso dalla prima volta in cui Martina è entrata come ospite nella loro dimora. L'attenzione di Cruz si trasformerà in preoccupazione quando si renderà conto che i mesi sono passati senza una chiara definizione della posizione di Martina all'interno del nucleo familiare. La preoccupazione diventerà palpabile mentre Cruz comincerà a chiedersi se Fernando, il padre di Martina, un personaggio che si staglia nell'ombra con la sua assenza, tanto quanto con il suo silenzio, sia davvero informato del prolungato soggiorno della figlia. La riflessione di Cruz porterà una crescente consapevolezza delle dinamiche nascoste che circondano Martina e la sua permanenza. La Marchesa si troverà divisa tra l'affetto per la nipote e la necessità di chiarire la situazione per il bene della famiglia. Nel frattempo, la tensione in famiglia aumenterà, alimentata dalla mancanza di chiarezza e dalla possibilità di segreti celati che potrebbero influenzare il destino di Martina e il rapporto con suo padre. La trama di La Promessa si arricchisce così di nuovi elementi, creando un intricato intreccio di relazioni e svelando la complessità dei legami familiari che caratterizzano la storia di Martina nella tenuta. Il complicato quadro familiare si infittisce ulteriormente considerando che Fernando ha interrotto ogni contatto con il fratello Alonso da oltre un anno. Questo fatto complica la situazione e alimenta le speculazioni sulla possibile ignoranza di Fernando rispetto alle decisioni prese da sua figlia Martina. Cruz, sempre più inquieta, si trova costretta a riflettere sulla possibilità che Martina abbia volontariamente trattenuto informazioni cruciali al padre, oppure che Fernando non sia stato del tutto sincero riguardo alla sua approvazione sulla permanenza prolungata della figlia nella tenuta. Le domande si affollano nella mente di Cruz, ognuna sollevando il velo su potenziali verità nascoste e segreti di famiglia. Questo dibattito interno non tarderà a manifestarsi in un confronto più aperto e diretto con Alonso, il quale si troverà a dover navigare tra la fedeltà verso la moglie e l'affetto per la nipote. Con il susseguirsi degli episodi della promessa, saremo testimoni della delicata danza di domande e risposte, di sguardi carichi di non detti e di conversazioni che sfiorano la verità senza mai afferrarla completamente. La trama si dipana così attraverso una serie di tensioni emotive, evidenziando le complesse dinamiche familiari e creando un'atmosfera avvolta nel mistero. Saremo coinvolti in una storia ricca di suspense, dove i personaggi si trovano a fronteggiare verità scomode e a confrontarsi con le conseguenze delle loro azioni, alimentando l'attesa per ogni nuova rivelazione nella trama avvincente della promessa. Ogni nuovo frammento di dialogo e ogni scena che si sviluppa nella lussuosa cornice della tenuta contribuirà ad essere una rete sempre più complessa di intuizioni e indizi, creando un affascinante mosaico narrativo destinato a rivelare sconvolgenti scoperte. I dubbi di Cruz trovano radice nel distacco che si è creato tra Fernando e Alonso, il quale non ha avuto alcun contatto con il fratello da oltre un anno. Di conseguenza, sorge la logica supposizione che Fernando potrebbe non approvare la decisione di Martina di soggiornare nella tenuta lui ananzi che nella casa paterna. La trama si arricchisce ulteriormente con la sottolineatura di Alonso, che cerca di fare luce sulla situazione di Martina. Di fronte alle incertezze e ai sospetti crescenti di Cruz, come reagirà Alonso? La risposta si prospetta veloce, ma il percorso che porta ad essa sarà caratterizzato da momenti di tensione, svelamenti sorprendenti e confronti cruciali. Gli spettatori saranno catturati da una serie di avvenimenti che plasmeranno il destino dei personaggi e porteranno alla luce intricati segreti, alimentando l'aspettativa per i prossimi sviluppi della trama in La Promessa. Il giorno successivo al profondo dialogo con sua moglie, Alonso sente il bisogno di indagare ulteriormente sulla questione e interroga nuovamente Martina riguardo al grado di conoscenza e di consenso da parte del padre riguardo al suo prolungato soggiorno alla tenuta La Promessa. In un tentativo di mascherare il suo disagio, Martina assicura allo zio che Fernando è a conoscenza della situazione e concorda pienamente con la sua scelta di rimanere lì per così tanto tempo. Tuttavia, Alonso, desideroso di dissipare ogni dubbio e avere una conferma diretta, si prepara a chiamare Fernando per chiarire la questione. Questa mossa inaspettata sorprende Martina, il cui sguardo riflette una profonda inquietudine, e ci fa riflettere. Perché è così turbata all'idea di una chiamata al padre? Le anticipazioni della promessa rivelano che Alonso si impegnerà nella difficile missione di contattare Fernando, cercando di ottenere una risposta diretta e definitiva. Nonostante Martina faccia di tutto per dissuadere lo zio dal compiere questa azione, la tensione nella trama cresce mentre emergono dettagli inaspettati. La storia si arricchisce di nuovi elementi intriganti, sottolineando il conflitto interno di Martina e aprendo la strada a possibili rivelazioni scioccanti che avranno un impatto significativo sulla trama e sui rapporti familiari. Gli spettatori saranno catturati da questa svolta imprevista, pronti a scoprire cosa si cela dietro il nervosismo di Martina e quale sarà l'esito della chiamata con Fernando. Martina de Luyan esprimerà un visibile senso di sollievo quando il marchese, a causa delle tensioni precedenti, deciderà di abbandonare l'idea di chiamare Fernando, sentendosi impreparato per un confronto diretto. Tuttavia, il turbamento che permea Martina diventa un chiaro segnale di tempesta all'orizzonte nella serena esistenza della tenuta Luyan. La domanda inevitabile che sorge è, quale mistero avvolge Martina al punto da causarle tale angoscia? La trama si fa sempre più intrigante, e gli appassionati della SOP sono in trepida attesa di risposte che sicuramente saranno rivelate nei prossimi capitoli. Questa giovane donna, che con la sua presenza ha portato gioia nella vita dei personaggi della promessa e ha incantato i telespettatori, sembra ora prigioniera di un inconfessabile segreto. Quell'ansia, inizialmente appena percettibile, si manifesta ora con una tensione sempre più palpabile, gettando un'ombra su ciò che forse nasconde. La curiosità crescente degli spettatori sarà alimentata dalla determinazione di Martina nel dissuadere Alonso dal contattare suo padre. Il comportamento di Martina, un tempo schietto e gioioso, si è trasformato in qualcosa di più ombroso ed elusivo. Segnali che non possono sfuggire agli occhi scrutatori degli abitanti della tenuta e, ancor meno, a quelli del pubblico. Questi cambiamenti non passano inosservati, suscitando curiosità e preoccupazione tra coloro che la circondano. La natura di questo segreto è oggetto di congetture. Si tratta forse di una verità nascosta riguardo al suo passato, o magari di una scelta difficile che potrebbe mutare il corso della sua vita e delle relazioni che la circondano. Potrebbe essere una questione di cuore, un amore proibito o non corrisposto, o forse qualcosa di ancor più grave e complesso che coinvolge la sua famiglia. Man mano che la storia si dipana, gli indizi vengono disseminati con abilità dagli sceneggiatori, come briciole di pane in un bosco oscuro che guidano il pubblico verso la rivelazione. Ogni scena con Martina diventa un puzzle da decifrare, ogni sua esitazione o sguardo sfuggente, un codice da interpretare. L'abilità con cui nasconde la verità è tanto ammirevole quanto frustrante per chi cerca di comprendere il cuore del suo conflitto. Nel tessuto narrativo della promessa, ogni momento con Martina diventa una tappa cruciale nella scoperta del suo segreto, e il pubblico è catturato dall'incertezza e dalla suspense. Le sfumature del suo carattere e gli intrighi della trama contribuiscono a rendere la storia avvincente e coinvolgente, spingendo gli spettatori ad avvicinarsi sempre di più alla verità che si cela dietro il misterioso cambiamento di Martina. L'atmosfera della promessa si carica di suspense mentre Alonso si prepara a esplorare le profondità del dilemma di Martina. Le dinamiche familiari della soap sono famose per la loro abilità nel nascondere segreti tra le pieghe di dialoghi apparentemente innocui e gesti quotidiani. E la storyline di Martina promette di mantenere alta questa tradizione. Le future puntate si preannunciano come un vortice emotivo che attirerà gli spettatori in un turbinio di speculazioni e rivelazioni. La domanda che alleggia nell'aria è, cosa c'è la Martina di così grave da non volerlo rivelare neanche al suo amato zio Alonso? L'anticipazione di una verità tanto delicata promette di agitare le già complesse dinamiche della famiglia dell'Uian. Come reagiranno gli altri personaggi una volta che il segreto verrà svelato? E quale impatto avrà la verità sulle relazioni già intricate all'interno della famiglia? Solo il tempo e il talento degli sceneggiatori della promessa possono rivelare il segreto che Martina custodisce gelosamente dentro di sé. Fino ad allora, non possiamo fare altro che attendere con trepidazione, osservando ogni nuova piega della narrazione, pronti a essere sorpresi dall'evoluzione di questo affascinante mistero. La trama si arricchisce di suspense, mantenendoci in attesa e alimentando l'emozione di scoprire il destino di Martina e il segreto che potrebbe sconvolgere l'equilibrio della tenuta Luian. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime emozionanti anticipazioni sulla trama della promessa. Vogliamo sapere la vostra opinione. Secondo voi, quale segreto sta nascondendo Martina? E i suoi genitori sono a conoscenza del suo soggiorno alla promessa? Condividete le vostre teorie nei commenti qui sotto, vogliamo sentire cosa pensate. Grazie per il vostro supporto e continuate a seguirci per restare aggiornati sulle ultime novità della SOP. A presto con nuovi avvincenti sviluppi!